Venite a Udine, vi divertirete! Paris Film Festival dal 25 aprile al 3 maggio Idio How to Soho È la prima volta che vengo in Italia, che vengo a Udine e anche io ero un po' ansioso di sapere come avrebbe reagito il pubblico italiano di fronte a un film che è molto malese ma ieri di fronte a una platea di più di 1000 spettatori in questo bellissimo video mi sembra di aver capito che la relazione è stata la stessa di quella che ho visto in Malese e sono rimasto molto toccato, molto felice di questo come un produttore di Astro Shaw eravamo molto felice di vedere che c'era una storia che tutti i malesei possono rilasciare Malese è un paese molto multiracial, multietnica, multicultural non è un'unico culturale è un'unico culturale e anche un'unico culturale non è un'unico culturale, non è un'unico culturale, non è un'unico culturale non è un'unico culturale, non è un'unico culturale, non è un'unico culturale ma non è un'unico culturale, non è un'unico culturale è un po' molto stretto con i figli è un po' stanza lucio, un po' i figli quello che vogliono per vedere un po' diverse famiglie che abbiamo in Malese e che se può realizzare di un'esperienza in Italia. e siamo molto appreciati, specialmente la notte, non abbiamo capito quanto questo film può essere appreciato da persone dall'interno di Malassia, dell'Asia del Sud, dell'Europa, dell'Udine, quindi è una risposta molto calda che abbiamo ricevuto.